Dopo lunga gestazione, il Comune di Pesaro ufficializza il suo nuovo Regolamento Comunale per il decoro urbano del Centro Storico. Un regolamento che, pur attenendosi al rispetto della legge nazionale, mette alcuni paletti alle liberalizzazioni finora adottati solo da pochi casi in Italia, come i centri di Arezzo e Savona. Un regolamento che vuole amplificare la qualità e la diversificazione dell'offerta commerciale del centro, vietando l'apertura di certi tipi di attività nel Cardo e nel Decumano, ovvero da via Branca a via Rossini, dalla piazza a via San Francesco e al Corso. Zone in cui di fatto non potranno più essere aperti bazar etnici, centri scommesse, compro oro, lavanderia gettone, carrozzerie, sexy shop, internet point o distributori automatici. Attività comunque consentite nelle vie secondarie. Una porta che si chiude per aprirne altre che caratterizzino e arricchiscano l'offerta commerciale del centro. È il primo comune che porta avanti con coraggio insieme alle associazioni di categoria questa iniziativa. È un'iniziativa che riguarda solo il Cardo e Decumano del Centro Storico, maggiormente dove vengono limitate alcune attività di compro oro, di scommesse, oppure ci sono attività che riguardano i bazar. Per il resto invece del centro è anche un modo per incentivare le vie secondarie. Durante il lavoro fatto di questi mesi insieme all'associazione di categoria si è pensato di valutare questa soluzione anche perché la legge ce lo consente dove ci sono aree storiche, comunque culturali o per un discorso ambientale si possono prendere delle misure da parte di un comune e adottare dei sistemi che portino alla valorizzazione del prodotto enogastronomico e l'artigianato locale. Limitazioni che saranno bilanciate da agevolazioni specifiche per aprire nuove attività. Per le nuove imprese che vogliono aprire abbiamo pensato a delle agevolazioni, dei canoni calmerati e adesso faremo tutti, una volta votato in consiglio comunale, faremo gli incontri con le varie agenzie immobiliari per aiutare nuove imprese a entrare nel mercato e dare supporto soprattutto all'imprenditoria giovanile e all'imprenditoria femminile. Nuovo regolamento applaudito dal sindaco Matteo Ricci che ha reputato il provvedimento un salto in avanti di qualità coerente al lungo processo di riqualificazione di palazzi storici del centro per il quale il comune sta ottenendo finanziamenti in serie. Un regolamento al quale guardano con speranza le associazioni di categoria. Speriamo, noi siamo convinti che con questo tipo di impostazione anche per il futuro si possa arrivare a ripopolare il centro storico. Abbiamo, a parte Cardo e Decumano, ma abbiamo anche tutto il resto del centro storico che è effettivamente un po' vuoto e con questo, aggiungendo qualità, aggiungendo vetrine accese, aggiungendo persone che in città ricominciano a passeggiare, quindi a ripopolare veramente tanto la città, riusciamo anche a riqualificare e a far ripartire finalmente, nel vero senso della parola, il centro storico. Salto in avanti di qualità, ma anche di diversificazione su un centro che Davide Ipaso ha reputato ultimamente appiattitosi solo su abbigliamento, biancheria e gioielleria. La diversificazione tabellare dà l'opportunità al nostro centro storico di diventare un centro commerciale naturale. Quando manca la diversificazione tabellare, ossia non ci sono le diversità proprio dei prodotti, dei negozi, io vado in un centro commerciale, non vengo nel centro storico, è questo che noi stiamo cercando di riportare, la voglia di rifare le vasche come si facevano una volta, ma non con la nostalgia, adeguandoci ai tempi del commercio e del mercato, che si sono nettamente diversi da quelli che erano 30 anni fa, però ridare lustro al centro con una diversificazione tale che dà l'opportunità a tutti di entrare nel centro e comprarsi la pasta fresca, comprarsi un paio di scarpe, prendere i pantaloni, andare a fare le macchinine per i bambini, giochi per i bambini o altro. Questo è quel che noi stiamo cercando di fare. Ce la faremo? Secondo me sì, l'unica cosa è che non dobbiamo andare contro una legge nazionale, ma ridare l'opportunità di incentivare determinate attività che purtroppo nel centro non ci sono, di dire io nel centro ci vado perché commercialmente è appetibile e anche economicamente ce la faccio.